Carmignano di Brenta, Galliera Veneta, Tombolo e Casal Serugo hanno aderito al protocollo d'intesa sul controllo di vicinato al quale partecipano già altri nove comuni della provincia di Padova, un progetto per aumentare la sicurezza che secondo la prefettura sta già dando i suoi frutti. Questo è un sistema che collabora sicuramente soprattutto a creare quella percezione di sicurezza che oggi è secondo me forse più essenziale della più sicurezza effettiva. Cittadinanza attiva e partecipazione diretta alla cura del proprio territorio sono le parole d'ordine di un progetto che disciplina in modo uniforme le attività a favore della sicurezza. Questo non è un gioco, è un servizio vero e proprio dove il cittadino è protagonista, quindi ci saranno dei corsi di formazione che saranno tenuti dalla polizia locale in collaborazione con carabinieri e guardia di finanza per formare questi cittadini che via per via avranno il compito di essere delle sentinelle. Ed è anche un cittadino che attraverso il controllo del vicinato può riscoprire oltre all'impegno civico una socialità che si va perdendo. È all'interno di un gruppo che in qualche maniera con cui dialoga e si confronta sui problemi del paese, in questo caso di sicurezza, e quindi in un certo maniera va un po' contro tendenza questo sfaldamento un po' generale del senso di comunità. Siglato il protocollo in prefettura Padova, ora la palla passa ai cittadini. Come tutte le cose di questa portata mi aspetto una risposta graduale perché bisogna seminare. Ieri abbiamo già fatto il primo incontro informativo e c'è stata una prima risposta, ma deve essere spiegata per bene e soprattutto penso che lo porterò per le varie zone del paese. Grazie.